Questo video è dedicato a tutti i tifosi di Play The Games che si terranno da venerdì a domenica prossima a Colleferro Ecco qua, non la so fa la grafica negli video Stiamo cercando di combattere certi comportamenti di alcuni tifosi Non tutti eh, quasi tutti praticamente Durante questi incontri di Special Olympics Prima cosa Urlate piano, urlare forte può danneggiare le vostre orecchie e quelli di chi vi siede accanto Seconda cosa È vero che questi atleti sono straordinari Ma non battete le mani così forte, vi prego Vi fate male Applatite così, con moderazione Magari ci mettete anche una cremina dopo Ma soprattutto, non emozionatevi troppo C'è sempre troppa gente che si emoziona, le Special Olympics Le emozioni stimolano delle sostanze chimiche del corpo Poi ti danno dipendenza, ti emozioni sempre Lo sappiamo come vanno queste cose, dai Mi raccomando allora, ci vediamo a Colleferro Il link dovrebbe stare qui sotto Io personalmente vado sabato pomeriggio E mi sto preparando Guardate Moderati Senza Un urlo normale così Forza, dai Dai Ti ho dato fastidio? Non ti ho dato fastidio, hai visto? Così, moderatamente Ed è un Verso Successi Ogni Qu bị